ciao freddinando ciao evi come state bene bene dai siete pronti siamo in piena pulizia generale ho capito senti io come ho detto anche su ab magazine sarò da voi venerdì perché faremo anche un po di cose non ci limitiamo solo all'audio perché comunque durante l'evento un po di giochi li facciamo anche nella sala un cinema c'è tanta roba tantissima roba un negozio veramente con un sacco di distanze di sale anche ben suonanti e invece dicevi il focus di questo evento di sabato qual è in particolare sono tre l'evento verte praticamente sulla far conoscere i marchi da noi distribuiti in italia ufficialmente che sono lampizzator jc cora e tla true life audio per quanto riguarda diciamo le amplificazioni ci saranno ovviamente per ogni marchio ci sarà almeno uno o due rappresentanti del marchio quindi faremo conoscere pure un po alle persone direttamente i progettisti direttori commerciali e quant'altro delle varie aziende per poter fare delle domande delle curiosità che ognuno ha sul processo di ricostruzione delle scelte diciamo delle varie aziende quindi prevede questo giradischi di cui abbiamo già parlato su avvi magazine fatto per voi quindi il prodotto personalizzato per noi con il logo nostro e che sarà ovviamente un po il il fiore all'occhiello della della giornata ehm col giradischio col proprio braccio top di gamma e e poi il il sistema completo sarà comunque eh per l'ottanta per cento di marchi da noi distribuiti che saranno lampizzator per il prefono ci sarà true life audio all'integrato eh ibrido e poi ci sarà la partecipazione di omega audio concept per quanto riguarda i diffusori e poi il cablaggio completo diciamo del del sistema ci sarà anche una piccola cadena digitale con sempre sì poi ci sarà sempre ehm sempre affiancata all'analogico ci sarà un piccolo sistema digitale diciamo piccolo solo per la molle ma non tanto per il prezzo ci sarà il lampizzato horizon che è un po un prodotto acclamato diciamo dagli audiofili evoluti diciamo così che è un DAC valvolare particolare e sarà guidato dal dallo streamer che è un rose audio l'RS 130 che è uno streamer pur senza da senza convertitore quindi altri dicono acclamato eccetera ma acclamato veramente cioè basta andare a Monaco tra poche settimane e vedere quante sale quante sale avranno sì e poi alla fine saranno sempre tra le salette miglior suonanti perché la stampa tutti gli appassionati che che entrano in quelle salette poi giudicano che sono sempre quelle miglior suonanti non a caso c'è sempre un horizon tu sei nella sala audio due canali principali immagino sì sì riconosco insomma parte della del del trattamento acustico però voi avete anche altre tantissime altre sale e quindi sabato sarà pure possibile visitare queste altre sale del punto vendita sempre in base agli orari delle varie persone che vengono per il due canali eh ci sarà tempo pure per far vedere ovviamente la nostra sala cinema diciamo attrezzata con un sistema completo della perliste top di gamma eh con trinov come pre processore amplificazioni a scello quindi una saletta diciamo una delle più belle che c'è in italia dai sì diciamo esteticamente la dobbiamo rifare però al momento eh le apparecchiette noi siamo masochisti quindi non ci accontentiamo mai quelle vabbè vabbè poi però so che ci avete anche un piccolo tv molto piccolo abbiamo un tv piccolo praticamente ehm nell'altra saletta dove dimostriamo solitamente il tiro corto o i video progetti di tiro corto o i televisori e il tcl il 98 pollici quello diciamo con prestazioni evolute col col dimming local dimming e quant'altro più zone quindi sarà una sorpresa perché ehm come prestazioni per un televisore LCD è molto molto evoluto è molto performante ehm quindi si spera che la direzione sia quella giusta per per avere degli schermi grandi con prestazioni sia di knit che che ovviamente di colorimetrie e quant'altro eh di contrasto sufficienti per garantire un HDR un Dolby Vision di qualità eh lo vedremo lo vedremo lo vedremo bene sabato io ripeto sarò lì da voi sia da 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 venerdì per giocare insieme alla preparazione di questa sala e poi rimarrò tutta la giornata di sabato e quindi mi divertirò con voi e per voi e quindi invito tutti i nostri appassionati a venire a trovarci assolutamente ricordiamo da che ora eh sabato? allora sabato inizia alle alle dieci l'evento praticamente e poi ci sarà una pausa pranzo e riprenderemo alle quindici per poi finire in tarda serata diciamo quindi ci sarà un po' possibilità per tutti le fasce orarie di di venirci a trovare quindi e di di ammirare un po' di di meraviglie nel campo audio video benissimo Ferdinando allora ci vediamo presto a prestissimo ciao 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 c'è Grazie.